Ciao ragazzi, siamo a Q&A, siamo con Cristian. Ciao Luca, ciao ragazzi. Ciao Cristian. Dunque, tutti i suoi amici ci hanno provato con lei, ma dice che non mi devo preoccupare. Cosa fare? Allora, cosa vuoi che ti dica? Abbiamo già discusso questa situazione qua o simile diciamo in altri due video. Gli uomini ci proveranno, è inutile pensare diversamente. Gli uomini ci devono provare perché proprio nella loro genetica, no? Se tu ci pensi, una donna quante volte può rimanere incinta in un anno? Una volta, ok? Quindi la sua filosofia è sulla selezione, così fa perpetuare la specie. L'uomo quante donne può fecondare in un anno? Un'infinità. Quindi la sua filosofia di vita naturale è sullo spargere il seme ovunque. Purtroppo ragazzi, a me dispiace dirle questa roba qua, però è natura. È natura, non è che posso io modificarla, cioè non è che lo dice Cristian di Play Lover, lo dice proprio la scienza, no? E quindi questa proprio filosofia ancestrale non la puoi cambiare, semplicemente deve essere la ragazza che controlla questa situazione. Perché tu come uomo cosa puoi fare più di… cioè se tu metti pressione di continuo la ragazza si stanca. Purtroppo tu devi capire la sua filosofia di vita che è selezione. Quindi se hai scelto te, un motivo ci sarà. È ovvio che gli altri amici ci proveranno, ma anche i tuoi amici potrebbero provarci. Cioè aspettati di tutto, io ho visto anche questo. Per cui non mi meraviglio di niente, il mondo è questo. E devi capire che accadrà, devi essere più che altro pronto a gestire situazioni emotivamente, perché potresti vedere che ci provano con la tua ragazza avanti ai tuoi occhi. E però deve essere lei che gestisce la situazione, ok? È ovvio che se lei, come dire, flerta con altri e io la prendo… la prendo male e quindi… cioè quel momento si chiude. A parte che se ci flerta con altri, voglio dire, hai già la risposta. Eh, capisci? Cioè, capisci? Non mi sta bene avere che la mia ragazza flerta con qualcun altro. No, no, no. Quindi assolutamente fondamentale questa cosa qua. Deve essere sempre la ragazza che gestisce la situazione. Grazie Cristiano. Un saluto.